Ti dichiari un europeista convinto? Pensi che per essere competitiva il destino dell'Italia non possa che essere negli Stati Uniti d'Europa? Sogni il giorno in cui finalmente portoghesi e lettoni potranno vivere sotto uno stesso stato? Allora questo è il video giusto per te. Perché a giugno ci saranno le elezioni europee. E come ogni quattro anni si presentano partiti e liste minacciose come questo e come questa. E figure ancora più ambigue e sinistre come questa si candidano a guidare le istituzioni. E allora è finalmente arrivato il momento di fare un discorso che sappiamo un po' per tutti difficile da digerire. Perché si tratta di mettere in discussione niente po' di meno che l'ultima grande utopia politica per almeno un paio di generazioni di europei. E a cui anche noi, in fondo in fondo, ci abbiamo un po' creduto. Ma arrivati a questo punto sarebbe peggio continuare a far finta di nulla. Continuare a riempirci la testa di rassicurante propaganda. E aspettare che la catastrofe diventi irreversibile. L'entrata dell'Italia nell'euro è stato un fallimento. E questa Unione Europea è un progetto finito. E preso atto di tutto questo, le forze veramente popolari europee hanno oggi il compito urgente di proporre una serie alternativa sociale e democratica a queste istituzioni comunitarie, fondate sugli interessi delle oligarchie finanziarie, sulla guerra e sulla politica estera americana. Ma certo, hai ragione, penserà adesso in automatico l'europeista convinto. E il problema sono i sovranisti che impediscono una vera federazione. La soluzione è che ci vuole ancora più Europa. Il nostro destino sono gli Stati Uniti d'Europa. Da soli gli stati nazionali non potranno mai farcela da soli. Calma. Perché su questo argomento non possiamo più permetterci di essere banali, superficiali o ideologici. Ed è anzi questa adesione quasi religiosa al progetto di questa Unione Europea e alla sua moneta unica ad aver fatto i danni peggiori. E ad aver tradito la speranza di un vero soggetto geopolitico indipendente capace di competere con le altre superpotenze. Sì, perché purtroppo ancora in Italia, quando si parla di euro e di Unione Europea, è come se ci si scontrasse con un muro. Un muro, come scrive il professore di economia Pavarani nel suo ultimo articolo per la fionda, Il male della banalità, fatto prima di tutto di luoghi comuni, di false credenze, di falsi miti, di informazioni distorte, di banalità. E questo perché l'europeismo in Italia non è mai stato una posizione politica tra le altre, Ma è diventato come un tabù religioso, un feticcio. E persino sugli effetti negativi della moneta unica per la nostra economia, Sui quali ormai c'è una corposa e copiosa letteratura scientifica, È praticamente impossibile avere una discussione franca e razionale. E piuttosto che anche mettere solo in discussione la bontà e la speranza del suo grande sogno federalista, L'europeista convinto preferisce non ascoltare e guardare dall'altra parte. L'euro è assurdo al ruolo di indecibile, di totem, di feticcio, Schive un altro professore di economia, Gabriele Guzzi, sull'IMES. Invece di procedere in analisi equanimi, Ci si nasconde dietro a una religiosità europeista spesso molto sterile. Malgrado questo, conclude, L'oiato tra l'immagine edulcorata di Europa e l'Europa reale, Si fa ogni anno più insostenibile. In questo video non solo richiameremo alcuni dei dati fondamentali Che dimostrano i danni che il mercato unico e l'euro Hanno fatto a tante economie europee, compresa la nostra, Ma ci soffermeremo soprattutto sulle resistenze culturali Che oggi impediscono a tanta parte dell'opinione pubblica Di affrontare in maniera realistica e razionale L'argomento della moneta unica e del progetto comunitario. Un video insomma europeista nello spirito, Perché avere a cuore il destino del nostro continente e dei popoli europei Significa oggi ammettere il fallimento delle sue recenti e contingenti istituzioni politiche E la necessità, dalle loro ceneri, di costruire qualcosa di completamente diverso. Buona visione. Partiamo da un presupposto che dovrebbe essere ovvio e che invece non lo è per nulla. Criticare la moneta unica o le forme giuridico-istituzionali dell'attuale Unione Europea a 27 membri Non significa affatto essere anti-europeista. Già quest'equazione tra l'essere europeisti ed essere a favore delle politiche della Banca Centrale Europea o della Commissione Puzza di ideologia e di propaganda da lontano un miglio. E quindi questo video, lo sottolineo di nuovo per il nostro europeista convinto, Non è nemmeno lontanamente un video anti-europeista, ma anzi un video mosso da spirito costruttivo. Che da una parte riporta alcuni dati che dimostrano come l'Italia, insieme a molti altri paesi, sia stata oggettivamente danneggiata dalla moneta unica. E dall'altra che riflette sul fatto che una nuova unione tra le nazioni europee, fondata sulla solidarietà, sul primato della politica sull'economia e sull'indipendenza strategica dagli Stati Uniti, è nei fatti strutturalmente incompatibile con le attuali istituzioni comunitarie. Partiamo dalla situazione attuale. Negli ultimi due anni, l'idea che l'epidemia avesse rappresentato un momento rifondativo per l'Unione Europea grazie alle emissioni di Eurobond, si è scontrata con la realtà. Non c'è stato nessun salto di qualità, nessuna prospettiva federalista. Mentre il mondo brucia tra guerre e divisioni, scrive Guzzi, l'Unione Europea continua a discutere di zero virgola, di percentuali, di saldo strutturale. L'ideologia contabilistica e ragionieristica di Bruxelles si mostra ancora l'unico collante economico realmente esistente oggi in Europa. E questo, come vedremo, non per colpa dei sovranisti alla Orban, come subito starà pensando il nostro europeista, convinto pur di non mettere in discussione il suo sogno, ma perché è esattamente questo il progetto dell'Unione Europea. E ci sono esattamente questi principi e fondamenti su cui sono stati costruiti i trattati. È esattamente questa, questa qui, l'Unione Europea che hanno voluto l'elite e che continuano a volere. Non è un incidente, non è un errore da correggere per poter tornare sulla giusta carreggiata. È così che funziona perché è così che è stata pensata. E infatti gli Stati Uniti, che stanno da sempre dietro al progetto comunitario e anche piccole cerchie del grande capitale, stanno continuando a beneficiarne, naturalmente a spese ad esceti medi e popolari. Partiamo dalla moneta unica. L'euro, ci dicevano, avrebbe reso più ricco e competitivo tutto il continente. A vent'anni dalla sua introduzione, i dati ci dicono esattamente l'opposto. L'Europa prima dell'euro, ad esempio, aveva un più procapite pari a quello degli Stati Uniti. Oggi è circa la metà. Nel frattempo, nessuna politica fiscale comune è stata fatta. E questo non perché ci sono i sovranisti cattivi, ma perché non è nemmeno mai stata proposta. E non è nemmeno coerente con gli stessi principi fondativi dell'Unione Europea. Nel contesto poi di questa perdita di competitività di tutto il continente, che già confuta uno degli argomenti preferiti degli europeisti, secondo cui le Unione Europee e l'euro sarebbero fondamentali a competere meglio con le superpotenze, alcune economie hanno ricavato vantaggi dalla moneta unica e altri no. Vantaggi a danno degli altri paesi membri, si intende. Nei propositi iniziali, scrive Guzzi, l'euro avrebbe dovuto raggiungere diversi obiettivi. Tra gli altri, promuovere la crescita economica, ridurre le divergenze tra paesi, diventare un credibile competitore rispetto al dollaro. Dopo 25 anni, possiamo dire che tutti questi obiettivi non sono stati raggiunti. Certo, penserà l'europeista convinto, è successo perché alcune classi dirigenti nazionali sono state più in grado di altre di sfruttare la moneta unica. Non è colpa dell'euro, non è colpa dell'Unione Europea, è, come al solito, colpa dell'incompetenza dei singoli stati nazionali, ed è la prova che ci vuole più Europa. Ma ormai lo abbiamo imparato a conoscere bene il nostro europeista convinto, e questa è la sua solita strategia del benaltrismo, utile a non mettere mai in discussione la sua fede, a prescindere da qualunque dato argomento. Per la strategia del benaltrismo, i problemi non sono mai e poi mai legati all'Unione Europea o all'Euro, che invece sono sempre un bene in sé, ma sono sempre legati ai problemi interni alle singole nazioni, problemi che non avrebbero naturalmente se si donassero completamente alle istituzioni comunitarie. Peccato che le cose non stiano esattamente così, e l'Italia, in questo senso, è un caso paradigmatico. Da circa 20 anni il nostro paese ha smesso di crescere, e sta vivendo un drammatico declino strutturale che inizia nella seconda metà degli anni 90 proprio in coincidenza temporale con la fissazione del cambio nei confronti dell'EQ, che poi, in continuità, è diventato Euro nel 1999. Due grafici che ricaviamo dall'illuminante articolo di Pavarani fotografano la tempistica e l'entità del declino, e non richiedono molti commenti. Ecco, qui vediamo la famosa Italietta della Liretta aumentare stabilmente il proprio pil pro capite fino alla metà degli anni 90, diventando una delle più ricche e prospere comunità del pianeta, per poi cominciare il suo triste declino in coincidenza con l'introduzione dell'Euro. Questa curiosa coincidenza temporale, scrive Pavarani, diventa ancora più marcata se confrontiamo i dati Eurostat sul pil pro capite italiano, confrontandoli con la media dei 15 paesi più sviluppati dell'Eurozona. Dalla tabella seguente e dal relativo grafico, è possibile rilevare che dopo un lungo inseguimento culminato a metà degli anni 90, la distanza del reddito pro capite italiano dalla media, il livello zero nel grafico, è bruscamente tornata su valori negativi e fortemente decrescenti. Nel 1996 fu definitivamente stabilito il cambio della lira prima nei confronti dell'eco, poi diventato Euro. Dal confronto dei due grafici, scrive Pavarani, emerge una più precisa puntualizzazione temporale dell'inizio del declino, che viene a coincidere con la definitiva perdita della flessibilità del cambio. Soltanto quindi una semplice coincidenza temporale? Ed è tutta colpa della nostra classe dirigente che da un certo momento in poi non ha più capito come autogovernarsi? Si può anche continuare a pensarlo e continuare a sostenere che sia tutta colpa dei sovranisti o dei populisti che parlano alla pancia invece che alla testa delle persone. Però allora, come sottolinea Pavarani, ci si pone in aperto contrasto con un'ormai copiosa letteratura scientifica che ha chiaramente dimostrato i rapporti di causa e di effetto. Ad esempio, il premio Nobel dell'economia, Josef Stiglitz, che nella sua opera è dedicata all'euro, scrive che la causa della crisi è da attribuire alla struttura stessa dell'eurozona e alle politiche da essa imposte, non alle mancanze dei singoli paesi. Non mi soffermerò adesso su tutti gli aspetti tecnico-economici che stanno alla base dei gravi danni che l'euro ha fatto alla nostra economia. E per chi avesse voglia di farsi una prima idea su questo argomento, metto qui sotto in descrizione gli articoli di Pavarani e Guzzi. Sta di fatto che il processo di integrazione e la moneta unica, per come sono state progettate, non potevano che essere fonte di vantaggi per alcuni e simmetricamente di svantaggi per altri. Fa parte del suo DNA. E questo non ci deve stupire. Nate nel clima culturale del neoliberismo, è questa l'ideologia politica su cui si fondano i trattati, l'euro, e che tutt'oggi guida le istituzioni comunitarie. Un'ideologia, come dovremmo ormai aver imparato, intrinsecamente oligarchica, è fondata sul primato dell'economia sulla politica. L'intervento dello Stato nel mercato, le politiche distributive, la tutela dei diritti sociali, sono contrastate dalle regole che l'Unione Europea si è data e ostacolate dalle riforme che essa richiede ai Paesi membri. Scrive Pavarani. Le regole del gioco sono quelle del mercato e della concorrenza, che premiano alcuni e penalizzano altri. Naturalmente, conclude il professore di economia all'Università di Parma, tutto questo è quanto di più lontano si possa immaginare rispetto al progetto di società prefigurato dalla nostra Costituzione. E infatti l'Italia è stata fortemente penalizzata dalle dinamiche comunitarie, anche più di altri Stati, proprio per la difficoltà di adeguare il proprio modello sociale e gli assetti giuridici, economici, politici e sociali, al paradigma imposto dall'Unione Europea. Ma se la sta grande maggioranza dell'impresa italiana, anche se ovviamente in modi diversi, è stata colpita dall'austerità e dalla desertificazione industriale, e se solo piccole cerchie del grande capitale hanno beneficiato e continuano a beneficiarne, come spiegare allora la persistente adesione di buona parte della classe media italiana a questa fede europeista senza se e senza ma. È chiaro che le ragioni economiche qui non bastano e che siamo di fronte ad una resistenza ideologica e culturale che impediscono di guardare in maniera lucida e pragmatica alla realtà. E per capire quindi in profondità che cosa ha significato e che cosa significano l'euro e l'Unione Europea per il nostro inconscio collettivo, bisogna fare un po' di storia. La firma del Trattato di Maastricht è del 1992, l'anno di Tangentopoli, della speculazione contro la Lira e delle stragi di mafia. L'anno prima c'era stata la rovinosa caduta dell'Unione Sovietica, con tutte le sue tragiche conseguenze sul pensiero di sinistra occidentale. In quegli anni, insomma, l'Italia, con la fine del PC e dell'ADC, si ritrova in piena crisi istituzionale e sprovvista delle due grandi ideologie politiche che avevano dato un senso alla sua vita politica fino a quel momento. Un intero sistema era collassato, riflette Guzzi, e le eliti italiane valutarono il nostro paese come sprovvisto di quelle energie sufficienti per affrontare in sicurezza i nuovi scenari globali. È allora qui che troviamo le radici dell'adesione pseudo-religiosa dell'Italia alla moneta unica al progetto comunitario, che per noi non sono mai stati solo un utile strumento per mantenere la pace e portare avanti gli interessi nazionali, ma sono diventati la nuova grande utopia politica a cui fare riferimento. Un'ideologia politica con caratteri quasi millenaristici che permia tutta la nostra cultura politica del terzo millennio. L'unificazione europea divenne la nuova narrazione sostitutiva, il sol dell'avvenire, verso cui convogliare quelle attese millenaristiche che caratterizzavano entrambe le tradizioni, comunista e cattolica, sottolinea Guzzi, un marchigegno teologico-politico per risolvere la propria crisi d'identità senza interrogarsi troppo sul passato. Anche l'euro continua fu interpretato come la soluzione della crisi sistemica e generale dei partiti, dell'economia, della cultura e delle istituzioni italiane. Esso non è mai stato per noi solo uno strumento economico, è stato il modo con cui l'elite impostarono la nuova identità strategico-culturale del paese. Ed è per questo che è così difficile in molti ambienti parlare realisticamente e serenamente di queste cose, perché l'ideologia europeista è fortemente intrecciata con la vicenda biografica del nostro paese, con la nostra identità individuale e collettiva e con tutto il senso del nostro agire politico. Alla fine, però, la forza dell'evidenza colpisce sempre più forte e la realtà sono anni che ha cominciato a bussare nuovamente alla porta. Arrivati a questo punto, manca solo un ultimo gradino, perché senz'altro adesso l'europeista convinto si sente un po' scosso e sente i primi dubbi a fiorare alla coscienza. Ma non si sente ancora pronto a rinunciare al suo sogno, alla sua più intima speranza. E cioè che tra mille inciampi e contraddizioni è però in fondo solo questione di tempo e gli stati nazionali prima o poi metteranno da parte le divergenze e smetteranno di litigare tra loro e si convinceranno che l'unica cosa veramente razionale da fare è di dar vita agli Stati Uniti d'Europa. Ed essendo evidentemente questa nient'altro che una fede, tutto è permesso, tutto è concesso, tutti i sacrifici sono giustificati. Per l'europeista convinto infatti, gli italiani tra 30 anni potranno anche cibarsi di vermi o non avere più l'acqua potabile purché gli dicano che stiamo comunque andando nella direzione del grande progetto federale. Scriveva Carlo Carracciolo sulla stampa il 16 novembre del 2022 l'idea d'Europa è immortale perché è perfettamente irrealistica. Non mettendosi alla prova o rifiutandone gli esiti resta articolo di fede. L'europeismo ideale è indifferente alle miserie dell'europeismo irreale. Ma per provare ad approcciarci in maniera più realistica a questo tema proviamo allora a porci le seguenti domande. Quanto è verosimile ad oggi che singoli paesi membri dell'Unione Europea decidano di aderire ad un ordinamento federale che li priverebbe della stessa sovranità di cui sono privi i singoli stati della federazione americana? Quanto è probabile che i cittadini francesi, tedeschi, greci e croati e chi ne ha più ne metta rinunciano nello stesso momento alla loro costituzione? Quanto è credibile che i cittadini della Baviera o della Lombardia possano gradire che le imposte da loro versate vadano a beneficio dei cittadini romeni o estoni? Ora, ammesso e non concesso che una federazione di stati europei in stile americano che va dal Portogallo alla Lettonia risolverebbe anche solo qualcuno dei nostri problemi nazionali o continentali. Ha però ragione l'europeista irremovibile? E tra mille difficoltà e contraddizioni le istituzioni europee stanno veramente remando in quella direzione e quindi ogni anno che passa facciamo un piccolo passettino nella realizzazione del progetto federale? No, anche ammessa e non concessa la bontà dell'europeismo ideale, l'europeismo reale anche su questo punto è pronto a smentirlo. Perché non solo come vedremo subito la federazione degli Stati Uniti d'Europa non è nell'agenda e nei programmi delle istituzioni europee ma è anzi in totale contraddizione con i trattati e con lo spirito neoliberista su cui l'Unione Europea è stata edificata. La stragrande maggioranza delle persone che conosco sono certe che l'Unione Europea sta seguendo un percorso lineare, diretto ma ancora incompleto che porterà alla creazione di uno Stato Europeo scrive Pavarani. Sono altrettanto certo che se prendessero coscienza che questa prospettiva appartiene esclusivamente alla dimensione del mito e non ha nessuna radice nella realtà la loro eurofilia probabilmente si scioglierebbe come neve al sole. Benché lo faccia credere ai suoi cittadini infatti l'Unione Europea non vuole avere una dimensione politica autonoma e sovrana di tipo statuale. L'attuale Unione Europea continua Pavarani non ha alcun bisogno dello Stato della politica di compiuti poteri legislativi ed esecutivi. Le scelte politiche quantomeno in materia economica sono già state fatte sono stabilite a monte sin dall'origine e sono cristallizzate nei trattati una volta per tutte. È vero quindi che la costruzione che è stata pensata presenta un evidente deficit democratico ma questo era esattamente nei piani perché la democrazia impicherebbe che gli elettori con il loro voto possano cambiare anche la politica economica ed è esattamente ciò che si vuole evitare. La sovranità che è consentita al popolo è soltanto la possibilità di cambiare il governo nazionale ma senza cambiare politica economica perché questa è impostata sul pilota automatico determinato dalle regole dei trattati europei. In pieno stile neoliberista quindi il cosiddetto mitologico mercato e quindi in verità le ristrettissime oligarchie finanziarie ed economiche che il mercato lo manovrano e che traggono vantaggio dallo status quo deve essere tenuto bene al riparo dalle distorsioni prodotte dalle istanze democratiche. Per quale ragione chiediamoci le elite economiche che guidano le istituzioni comunitarie con l'avvallo degli Stati Uniti dovrebbero volere sopra di sé il controllo di uno stato sovranamente democraticamente eletto? L'obiettivo quindi pienamente raggiunto e consolidato dell'attuale assetto dell'Unione Europea era ed è il depotenziamento degli stati nazionali e quindi il depotenziamento delle istanze democratiche e dei poteri di intervento pubblico. Non certo l'obiettivo di costruire un nuovo stato più grande che riproponga a livello europeo il modello degli stati nazionali e quindi diciamocelo una volta per tutte l'attuale Unione Europea non è un assetto istituzionale incompiuto da completare in senso federale attraverso alcune riforme è già completa è già compiuta ed è perfettamente coerente al disegno iniziale. Lo stato federale non può essere un modello per il futuro per la semplice ragione che questo come gli stati nazionali è concepito in base dell'idea di sovranità statuale conclude Pavarani mentre l'idea che sta alla base del progetto di integrazione europea nasce al contrario proprio dall'istanza del superamento degli stati nazioni e della loro sovranità. E questo non sono quei brutti nazionalisti antiprogressisti di Ottolina Guzzi e Pavarani a dirlo ma è la stessa Unione Europea a dircelo. Il 9 maggio del 2022 infatti si è conclusa la conferenza sul futuro dell'Europa voluta dal presidente francese Emmanuel Macron. Come si evince quando l'Unione Europea si interroga sul suo futuro non si sogna nemmeno di mettere all'ordine del giorno la discussione su quali saranno i passi necessari e fondamentali per raggiungere un nuovo assetto statuale di tipo federale. E infatti non se ne fa nemmeno cenno nel documento finale. La costituzione di uno stato federale non è al vaglio delle possibilità. Insomma dovrebbe essere ormai chiaro che il mito degli Stati Uniti d'Europa ci viene venduto fin da bambini per continuare ad ingoiare tutte le schifezze e tragedie che il vero progetto dell'Unione Europea quello oligarchico neoliberista e figlio dell'occupazione americana ci costringe a subire. Quello che contribuisce allo smantellamento della social democrazia e alla lotta di classe dall'alto verso il basso. Gli Stati Uniti d'Europa insomma come il nuovo oppio dei popoli europei. L'oppio a caso del quale da 30 anni abbiamo smesso di guardare con lucidità politica quello che succede intorno a noi.